Non sarebbe veritiero affermare che è andato tutto liscio come l'olio durante la seduta consigliare dedicata a nociare inferiore a Tari, piano gestione rifiuti e tariffe. Si è presentata definitivamente dimissionaria dal ruolo di Presidente della Commissione Ambiente, Anna Cristiana Pentone, che impegni lavorativi tengono oramai lontana dalla città ed ha accompagnato la comunicazione con l'annuncio del voto di astensione. Stessa linea di condotta quella adottata dal consigliere Grassi, che in aula ha rilanciato il contenuto dell'esposto presentato in procura dall'ex assessore Lanzetta, rimarcando diverse altre sbavature e sottolineando quanto la Tari sia stata concepita. L'assessore l'ha forse dimenticato, ha detto Grassi, per i comuni virtuosi vedicava con il 65% della differenziata. Nocera pare essersi fermata al 35-38%. Soddisfatto degli sconti previsti per i virtuosi, il sindaco Maglio Torquato. Di contro, il rappresentante della civica Principe Rechia Antonio Franza ritiene che l'amministrazione avrà da rendere conto alla città su alcuni punti non chiari, venuti a galla proprio nella querella tra la maggioranza di governo e l'ex assessore Lanzetta, e che si sono tradotti, ha detto Franza, in costi ricaduti sulle tasche dei contribuenti. Il PD, in aula con il suo capogruppo in consiglio Massimo Petrosino, ha denunciato una grossa confusione, laddove invece un regolamento di applicazione di un tributo dovrebbe essere comprensibile da parte di chiunque. Il tutto con un fuori programma di rivendicazione occupazionale e di dignità. Abbiamo inserito nella regolamentazione di tariffazione una serie di criteri di premialità che riguardano le utenze domestiche, che riguardano le imprese che assumano personale della città, nocerino, riguardano il contenimento rispetto al rischio di un innalzamento delle tariffe che ci sta su scala nazionale, che noi abbiamo fronteggiato, dopo aver fatto e delegando ovviamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel prossimo futuro, dei criteri di premialità, cioè di sconto per tutti i cittadini, che dovessero essere virtuosi nel criterio di raccolta del rifiuto. In merito alla questione dei rifiuti c'è stato un lavoro precedente anche dall'ex presidente della commissione, la dottorissa Anna Pentone, che aveva raggiunto sempre in sede di commissione l'unanimità nell'approvare determinati atti. Oggi purtroppo, nonostante sei commissioni effettuate con l'assessore Campitelli, purtroppo non giungiamo all'unanimità, sicuramente non per volontà nostra, ma perché la commissione ha seguito un percorso non corretto, nel senso si è interrotto proprio nel momento in cui bisognava approvarlo. E cosa ancora più grave, a mio avviso, che oggi si portano in consiglio comunale la delibera delle tariffe del piano finanziario che a noi non solo non ci è stato consegnato, non abbiamo avuto la possibilità di discuterne all'interno della commissione, e cosa ancora più grave, abbiamo saputo che è stato inviato via mail solo ad alcuni componenti della minoranza, mentre ad altri non è stata la possibilità di partecipare al consiglio preparati. Riteniamo che il regolamento di applicazione di un tributo deve essere un regolamento semplice, profondamente comprensibile da chiunque e non necessariamente andare da professionisti terzi. Per quanto concerne le tasche dei contribuenti, comporterà che dovranno contribuire a quella che è la spesa, con l'obbligo però non solo politico ma anche morale da parte di questa amministrazione, di questo consiglio comunale, perché quando si discute di questi argomenti c'è bisogno di un atto di responsabilità di tutti, di avere una visione prospettica positiva di riduzione del contributo richiesto, considerando anche il movimento storico, ma anche perché io preferirei andare verso un obiettivo di un ricavo sociale di miglioramento della vita della città.